Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Salvatore Sanna che mi chiede di parlare del film di Dario Argento del 1975 Profondo Rosso. Profondo Rosso e Dario Argento ho già fatto una monografia nel canale vecchio, comunque Profondo Rosso è uno dei miei film preferiti, c'è poco da dire, uno dei thriller italiani più interessanti di tutti i tempi, in capolavoro immenso, una mini di film di Dario Argento, c'è poco altro da aggiungere, in realtà finirebbe qui la mini recensione. Se vogliamo parliamo un attimo della storia, la storia è quella di un pianista che è a suonare praticamente in Italia e mentre è qui assiste all'omicidio di una donna attraverso una finestra mentre che un suo amico praticamente sta bevendo per la strada. Da lì parte tutta una serie di omicidi che sembrano perseguitare anche il nostro pianista ma sembrano girare tutti attorno insomma a qualcosa, a una villa importantissima. Il nostro inizia a fare queste indagini insieme a Dario Nicolodi che interpreta una giornalista, poi abbiamo Mario Spani e molti altri a fare altri attori come investigatore e altri ma la base è il zucco e questo insomma. La giornalista e un musicista indagano su una serie di omicidi di questa serial killer che sta ammazzando gente in giro che sembra collegata appunto a questa villa. Quindi dicevo è Profondo Rosso, è Profondo Rosso il film a cui a sette anni praticamente il mio cervello ha iniziato a capire che cos'era l'orrore, la paura perché pur essendo un thriller sì è un giallo in fin dei conti. Però è forse il primo film dal gente o non forse dove si insinua un po' di comunque di sovranaturale se si pensa al personaggio appunto iniziale della nostra medium che viene ammazzata e che già vede l'assassino e tutto il resto quindi qualcosa di sovranaturale c'è. Però non nella risoluzione della trama, non è un classico Woodnit molto difficile arrivarci a capirlo, in realtà bisognerebbe intuire un paio di frame diciamo del primo omicidio. Non vi sto a svelare cosa se non vi sputtano tutto a chi magari non ha visto davvero questo Profondo Rosso che però boh per me è grandioso e tutti tutti gli omicidi sono girati con una tecnica e una passione incredibile, artistici veramente, un senso mostruoso del tempo, della paura, della tensione, una voglia di Hitchcock sì ma anche tanta tanta voglia di Mario Bava chiaramente ma l'argento però ci dava qualcosa di assolutamente personale in questo Profondo Rosso proprio perché riusciva anche a unire una sceneggiatura che ora magari è un pochino datata, qualche battuta un po' quella ma riusciva a unire una sceneggiatura che puntava al thriller ma che faceva paura come un horror e in più inseriva delle parti talmente gore, violentissime, ripeto l'omicidio della nostra iniziale medium alla finestra, è terrificante quella che entra, la mano che fa così è la prima accettata sul sgruppone, l'altra bruciata nell'acqua calda, è pieno di amici di uno più bello dell'altro dell'altro la scena fantastica con il bambolotto creato da Rambaldi che entra e questo poi viene spappolato sul tavolino, sono meravigliose anche tutte le scene di raccordo in cui sentiamo per esempio parlare l'assassino quando il nostro è al pianoforte e sente cascare della terra sopra il pianoforte si rende conto che qualcuno sta camminando sopra di lui e parte la nenea la 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 parte questa nenea terribile e quella è una scena micidiana, non c'è sangue, non c'è un cazzo ma è una scena tesissima dove lui deve cercare di arrivare alla porta e chiudere prima che arrivi l'assassino, così come sono perfette tutte le inquadrature col macro che sono vicinissime al tavolino che si spostano con questa piena sequenza fra una biglia e l'altra e un coltello e l'altro, queste inquadrature in primissimo piano degli occhi, buone liane fino in fondo con questo trucco che viene dato, meraviglioso, colonna sonora clamorosa dei Goblins eppur non scritta completamente da loro, visto che in realtà la maggior parte delle composizioni è di Giorgio Gaslini, ma insomma i Goblin però con Simonetti hanno dato proprio una svolta, si dice che Argento ci volesse di Purple, da lì di Pred e di Purple probabilmente non accettarono e trovò questo giovane gruppo appunto di Simonetti e Goblin che di cui deve poi tutto il suo successo, per me è un grandissimo film che vi devo dire, è un film recitato molto bene, un grande David Eming come protagonista, un film che ha una grandissima Clara Calamai che ricordiamo è stato il primo seno nudo del cinema italiano e in tutto questo il nostro ci porta comunque in una condizione quasi gotica, quasi da favola, nera, a sprazzi con qualche tocco di ironia che arriva come un fulmine fino al meraviglioso finale, quindi che vi posso dire io di Profondo Rosso di Più di Vesta, è uno dei miei film preferiti, lo adoro fino al limite, il link è qui sotto chiunce là veramente si vuole del male, Profondo Rosso in capolavoro, punto.